Questa mostra cerca di combinare un pubblico che si compone di gente dello sport, gente della storia dell'arte, perché viceversa hanno qualche cosa da dire fra di loro. E spero, con questo esperimento, di dare una spinta a un dialogo abbastanza nuovo, perché fino adesso lo sportivo entrava raramente nel museo. Con questa intervista che abbiamo fatto con il corridore famoso svizzero Fabian Cangelara, abbiamo visto che un sportivo come lui, senza sapere nulla della storia dell'arte, ci ha fatto una critica di queste tre immagini di Jean Metzignard, che era assolutamente conforme alle nostre idee di ricercatori di storia dell'arte, che hanno un insegnamento da anni, invece lui, in qualche minuto, senza sapere niente, ci ha dato veramente l'idea che il corridore di bicicletta poteva insegnare qualcosa di importante a noi.